Che cosa abbiamo qui? Per il fondatore, qualcuno si è dato da fare. Questa creatura, qualsiasi cosa sia, è a caccia. Ma non saremo noi le prede. Stammi vicino, Torgal. Dove sei? L'altro frammento dell'Ira di Valis. Potete sapere, è ora di metterti a nanna. Sì! Un po' di più. Un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.